un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento con biohazard e residente evil 7 biohazard oggi continueremo la nostra avventura in questo meraviglioso gioco hi everyone welcome to the stream today we will go on playing resident evil 7 biohazard salut a tutti e benvenuti al nostro live dedicato a resident evil 7 buono visione allora ok andiamo avanti allora qua abbiamo detto che allora vediamo se riusciamo a combinare qualcosa allora questa no quindi abbiamo solo un proiettile qua però stiamo un poco nella allora prima di andare però l'ultima ottima sono entrato da qua se non ricordo male sì dovrei ok questo mi ricordo allora ok abbiamo il fucile ricordiamoci sempre di caricare l'arma prima di muoverci aspetta un attimo abbiamo attimo la mappa no mi sa che devo passare di là ok i have to i should change allora diamo un attimo devo capire un attimo allora qui ok sono venuto da qua ok this is the not the right way i must go on the right way i must go and verso so i must go out from this door allora vediamo un po cosa c'è qua qui non si può passare neanche se oh ottimo consiglio a tutti quanti voi ecco di prendere l'abitudine di raccogliere tutti gli oggetti che trovate sulla mappa che trovate sulla mappa i will suggest you to bring every thing everything you will find on the map gucci 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 che se ne so due vieni gucci Hanno mangiato pesante oggi, giustamente domenica, però ce ne sono un bel po' qua, eh. Allora scommetto che non funziona. Però, come sempre, andiamo a controllare tutto. Andiamo sempre a controllare tutto sul mapa. Andiamo a controllare tutto sul campo. Andiamo a controllare tutto sul campo. Allora, vediamo, se le schermo, fare una cosa. qua, fluido chimico no, questo, fluido chimico no, io direi di conservare, però vediamo un attimo una cosa, controlla la miniera, ok, we must check the mines here, down here, ok, ascensore, chiamiamola ascensore qua, ah, sbagliato, lo sapevo, l'abitudine di sniper elite ovviamente, ho sprecato una boccetta di, allora, da dove si esce, dai, we we, non facciamo scherzi, no, non facciamo scherzi, e allora, qua, non c'è da fare niente, qua, c'è solo, la condutta per, il mio tesoro, bello, potente questo, ah, qua ci sono le trappole, here there are the traps, allora, se muovo faccia così, questo mi fa, aspetta, com'è che si strisciava a terra, questo muovi, sicuramente, ok, sempre cerchere se ci sono alcuni trappi, o altre cose, ricordatevi di cercare le trappi, ricordatevi di cercare..." E, cercher toujours votre fusile, votre arme. Ricordate di ricargare il vostro weapon, prima di andare. Però qua non vediamo una cosa adesso. Non posso vedere nulla. Ecco, ok, allora io quasi quasi visto che è così, ok, va bene, allora qua c'è un'altra trappola, mamma mia, non so come ci sono passato, allora qua ce ne sono due, ricordate di restare qua. Lo so, Rosso. Mi chiamo qui. Questa è la… non so, posso entrare. Ok, non c'è entrante a questo lato della cava. Non c'è entrato nella parte dell'acqua. E ovviamente, non ho... Mi sa che bisogna fare qualche altro giro. Mantenete un basso profilo. Tenete un profil bas profil. Allora, qua che ci sta? Allora, dove iniziamo? Ah, ok. Perfetto. Vediamo un po' qua dove ci porta. Oh! Proiettili. Non so proiettili di cosa, ma... è buona norma. È buona norma, dicevo, prestare molta attenzione. Io per un puro caso mi sono... girato... velocemente. Ammazziamoci. Questo sta qua. Voi, voi, voglionoci. Andiamo a bella. Oh! Eccolo là! Vum, da pà, ya! Voi, vì. Oh! Noi solo non basta, ma c'è una vanna tricca. Ehm. Ho la vaga impressione. Ehhh. Ho visto qualcosa. Vai, 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 vai. Speed, speed. Push, 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 push. Yes. Yes. Curra, curra. Run, maybe, run. Let's check here before moving. Controlliamo che non ci sia null'altro da... da prendere. Mi sa che qui non si può passare. E quindi... Andiamo avanti. Come sempre. Controlliamo e bonifichiamo l'area. E qui già ho visto una trappola. Che cos'è? What is this? A trap? This is a... It's a trap. It's a trap. E' una trappolilla. Ma come posso fare per... Per fare qua... Ma che calibro è? Allora queste sono per la mitagliatrice Non vorrei spiegare Dov'è che è collegato Lo sai non si riesce a vedere qua Io credo che però questa sta collegata Non so dove ma nel dubbio Firmboost 08 ha appena brindato con 12 vizio Grazie mille Presidentissimo carissimo Buon pomeriggio e ben ritrovato Ah finalmente un paio di proiettili decenni E allora stiamo esplorando la cava Ho trovato diverse trappole esplosive Sempre le solite E insomma ho trovato anche gli amigatti Che sono venuti a fare un po' i fringuellacci Hanno fatto un po' i cattivoni Ma Aia Ricordati del Di questa botta qua Quando arrivi tu qua Ehm Mannaggia Vabbè Facciamo così Allora mi raccomando Seguite ovviamente il canale dell'amico Firmboost 08 Grazie presidentissimo Scusate Ogni tanto mi dimentico di prestare attenzione a quando parlo E qua mi sembra un dice fu Come se io Ok Allora ragazzi voi sono riuscita a resettare il cervello E a tornare alla normalità E pensa lei E lei pensa ancora di avermi in pugno Dovete fare qualcosa ragazzi Non solo all'aspetto di una macciosa Ma è anche stupida come una macciosa Mi dissocio Mamma e papà invece sono del tutto fuori Quindi Ditemi un po' Questa cosa della famiglia E l'avete programmata voi In che modo? Eh E' strana Forte Non diciamo la parolacce E a volte diventa molto violenta Ecco Credivo che Evelyn sarebbe Andata su tutte le fuori Visto che Mia E' la sua preferita Crede che Mia sia la sua mammina Ah ecco La sessione della famiglia di Evelyn Sta superando ogni limite Sta facendo sparire più gente Quindi ecco perché gli organi Presenti nel Nel frigo Forse si sta stufando mia ancora Sulle sue Ma è una La nottura eccetera eccetera Per me Che devo ripulire il casino Quando qualcuno di nuovo viene portato qui E a proposito Evelyn non sembra essere in grave forma La sua pelle si sta riempiendo di rughe I capelli si stanno ingrigendo E qualcosa di previsto Sembra che stia invecciando Tutto d'un culo Ah però Ah però Ah però Allora L'erba medica Mi sono impressionato Ho visto l'ombra e ho detto Ma chi è Allora Andiamo qua Ricordatevi sempre Di prendere tutto ciò Che trovate Ricordatevi sempre Ricordatevi sempre Ricordatevi sempre Che trovatevi In questo gioco E non N'attivatevi L'importante Che trovatevi Che trovatevi Tutto di Ma Il Prima Che trovatevi Dieci minuti dopo, là, ah, decesso, caspita, what is this, c'è? Dimmi che non è una bomba, ah, oh, F, che mi dice questo? Che ci vuole qua, mo? Non, mi sa che è manco un pezzo qua, aspetta, aspetta, quals'è questo? No, devo cercare qualche altra cosa. Quindi, devo trovare qualcosa di altra cosa. Devo trovare altre cose per far funzionare, marcher, legge, il trucco là. Allora, questo qua non ci fa fa niente. Quindi, questo deve avere una forma, presuppongo, ah, forse è una siringa che deve essere messa là, però non ho capito una cosa. Diamo cosa è questo? Ah, ecco qua. Hai capito, Fernbus, quella situazione rossa, là, il siro? L'ha messa dentro là, che fortuna, ah, ecco, ma credo, questo potrebbe servirmi, credo, per aggredirci la membrana cellulare di qualsiasi soggetto, basato sul modello di arma biologica di serie, da utilizzare per l'eliminazione di soggetti della serie. La tossina richiede stimolazioni prima dell'uso. L'operazione di stimolazione è condotta iniettando un campione di cellule appartenenti ad un soggetto di serie E. E, serie E, nel contenitore della necrotossina. Ah, ok, perfetto, quindi quella che ho fatto in effetti. Vabbè, qui abbiamo trovato la soluzione. Fernbus, quindi il siro, quello lì, se ti trovi una bottiglietta, non la buttare. Cartuccia incendiare, ahiaiaiai. E quando sento sta musichetta, però... Mi sto a fare addosso. Allora... Bruciatore... Bruciatore, bruciatore... Allora... Facciamo così. Combino... Perché manca qualcosa? No, allora... Credo di aver tutto quello che mi serve, giusto? Parte due colpi qua. Sta... Questa... Quindi questi sono i colpi per la migliettrice. Ok, perfetto. Allora, diamo un attimo un'occhiata qua. Prima di andare... Ah, un polvere da sparo. Così mi creo. Un po' di... Cartucce per fucile. Queste torneranno sempre utili. Utili poi... Ah, eccole qua. No, queste nuove... Allora, agente corrosivo. Potrebbe... 20 munizioni. Eccole qua. Perfetto. No. Allora, diamo un po'. Ehm... Agente corrosivo. Questa quante ce n'è? Uno solo. Ah, no. Non ho spazio. Allora, creiamo. Now I will create... I will use... Everything. Ok. Poi oggetti. Ah, le pasticchine qua. Queste quasi quasi le lascere qua. È libero un posto. Ok. La polvere da sparo c'è. Questa... Mi può servire. Un'ultimo occhiatino qua. Se ci fa fare qualcosa. Allora, qua non ci va a fare niente. Ah, manca il fluido chimico. Qua ho forte. Chimico forte. Carissimo Fernbus. Scusami un attimo. Allora, come si va innanzitutto? Ben... Benvenuto. Anzi, ben ritornato in live. Scusami se non ti ho salutato prima, ma stavo facendo un briefing ad alta voce. Allora, ecco qua. Controlliamo qua sotto. Ok. Assicuriamoci che non ci sia nulla da prendere. Poi dobbiamo andare di là. Bomba a distanza può tornare sempre utile. Vediamo se riusciamo a combinare qualcosa. Perfetto. Quindi manca quello. Ok. Come sempre, un saluto a tutti coloro che stanno guardando la live. A tutti, ma proprio a tutti coloro che in questo momento stanno guardando sia la live sia il video in replica. Grazie molto a tutti coloro che guardando questa live e in replica. Grazie a tutti coloro che stanno guardando la live. Set live e set video. Grazie a tutti. Ah, qua mi sa che deve succedere qualcosa, eh. Quella voce... Ah, ecco, lo sapevo. Ma fatta che cazzo. No. No, mo. Il lunedì. Ma qua. Ammo che mi fa andare piano. Oh caccio. Ai ai ai. Ui ma. Io qua mi sa che devo scappare. Scappisci, scappisci. Carichiamo. Allora. Oh, ma che non mi fa andare? Eh, questi mangiano pesante la domenica e poi... Fanno i versacci. Oh! Ma... Ma chi è? Signorina. Ah, è questa, eh. Signorina. Veniamo noi a dirvi... Punto. Due punti. Abbondandum abbondandis. Ma non ci fa fare niente. Oui, oui. E qua mi sa che... Il fatto non è bu... Il fatto non è bu... Il fatto è malameand. Ho paura. Oh. Allora. E ora devo andare qua. Aspetta, però fammi dire un attimo. Ah, questo fa giro e giro d'un. Eh, quindi qua c'è qualcosa. Ah, no, è qua. Eh, vi prego. Guys. Don't hit too much. Qui c'è qualcosa. Sono venuto da qua. Fammi controllare che... Ecco qua. Assicuriamoci che nessuno si sbuga l'improvviso alle spalle. Ai ai ai. Ho paura. Oh, ottimo. Mi fa piacere che... Stiamo trovando... Oh, caccio. Cat, cacca sotto. Ok, ho capito. Uh, caccio. Dai, dai. Alla faccia del bicarbonato di solio. Wow. Ma bella potenta assai sta... sta pistola. Ma faccio il gaspita. Great job. Oh, là, là. Devo farmi dare una cosa. Se ne vengono cose buone. Ok, qua. Ho la vaga impressione che... Siamo nella cacchina. This is a bad... Bad sound, no good sound. Una mala parata. Chi è? Signorina? Si è calmata? Ma allora... Qua non c'è sta niente. Qua nemmeno. Andiamo qua. Allora... Qua c'è sta... Oh, caccio. Dov'è? Sono... Ah, sono pure in due. Ah, zelettico. Quasi quasi. Utilizzo questo. Oh, caccio. Devo però essere un po' più veloce. No, mannaggia, la miseria. Vabbè. Ah, questa... Questi sono quelli lì. Eh, vabbè. A mani nudi, vecchio mio. Eh! Questi mangiano pesanti. Oh, c'è ancora un altro. Mamma mia, come si fa? Ecco perché il pugnale non va mai abbandonato. Eh, ma tu mangi pesante, fratello caro. Mangiate pesante. Ui, ui. Ui. Oh, 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 ui. Ui. Oh, 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 ui. Ma i questi mangiano pesante e poi mi vengono a fare i versacci a me, ma io non lo so. E direi che me la sono cavata Vediamo un po' No Niii sono proprio a secco Mamma la mente a secco Munizioni per mitragliatrici Ma io quella non la trovo Forse ho capito Dovevo prendere la mitragliatrice Mannaggia Alla cassettina Vai Dov'è? Ma scusami Boh Vabbè come non detto Allora diamo un'occhiata qua intorno Se c'è qualche altra cosa Let's check around here If we will find anything else Nespresso What else? Ok E andiamo avanti Ecco a mo Non posso fare niente E qua escono tutti Mappe della minira Ecco qua Ok Soluzione Ah soluzione Mi dica forte Ok Allora Vediamo un po' Qua ovviamente Qua non c'è nulla Un attimo solo Rieccoci qua Ok Perfetto Ci siamo Grazie ancora Fermus Per il sostegno Nel canale Qua però mi ricorda L'inizio del gioco L'inizio del gioco I remember I don't know if it is a Deja vu Or something like that But I remember That in the first part of the game I was in a room like this With the Mia Ok Non c'è più Asparita 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 Et voilà Je pensais Que J'avais déjà vu Cette Chambre là Et oui C'est vrai Je suis passé Au début Au début Du Jus Et J'ai eu la confirmation Que c'est ça Ecco Zero Zero Uno Ok E Zero Zero Uno O come si dice Appunto In gergo radio Ecco Zero Zero Uno Qua Ovviamente Qua Stammo proprio Messi male Male Quindi Ma siamo tornati Nella vecchia casa We are back in the old house Da logistica Bonjour Sostiate a Bonjour Ahia No Ah Questo sono io And I was Was me I was pulled On the wall No Solamente Colpa Tua We Ma Yeah Non dire così Non è una colpa Mi We We Con calma Con calma È meglio andare in Corea E qua Ricorda di aver preso Il fusibile Ok Quindi adesso Questo è un deja vu Quindi Oh Caglio Tranquillo Sono io Tranquillo Sì Sì So che non volevi farmi alcun male Uccidilo Mammina Ma questa volta Hai esagerato No no Non lo faccio più Non lo faccio più Non vuole essere il mio paparino Allora Può Morire No ci voglio pensare un attimo Questa volta è il turno della mamma di ucciderti Mazz Stiamo in guajazda Oh Qua è sparito La tazza del bagno Qua The waterclose that was here Is Is Vanished E allora adesso Allora Vediamo prima qua Mi sa che devo salire sopra Ah no Questo diventerai uno di noi E forse comincerai a comportarti bene Non sto scherzando No Allontanalo da me Uy 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 Scapisci Questa è la bambola che ho visto prima No Non 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 zero Ma Ok come te mi evo devo andare appieno di sopra So Beh ah Mi Ne dobbiamo passi parisi Oh cacchio Oh cacchio Ah ma questa è l'allucinazione Non è sciaglia La vedo Vediamo un po' dove porta sta porta È chiusa Non so via Ma sta andando ai pescini Eccola qua Vuoi poi Stai calma Depproccopà Oh Va bene Mo me ne vado Mo me lo segno Uy Eee Mi hanno giusto la porta alle spalle qua Spis Lasciami stare Non lo farai Stai alla casa Qui ma Non mi da nemmeno tempo di Eh non c'è la miseria Quale cosa si mettono molto molto meno Lo fatte non è buono Non farai Niente Volevo uscire da sta casa Non voglio fare niente No va bene Non esco Rimango qua La La Siringa 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 No La Siringa Siringa Perché tutti quanti mi odiano E' la signora che stava nella casa là Mico S Look at you no dai e che dovevo fare ah e qua il fatto non è buono ah la bomba addio mi dai è qua e anche boffa niente, allora devo organizzare oggetti, perfetto allora, però non ho fatto una cosa allora la bomba io la metto qua però aspetta, lancia granate no, è questa bomba ecco la qua, mitrallatrice ok no, che ho fatto? non ho messo la bomba ma forse devo andarmi a riparare qua vediamo un po' come se che signore ecco, ok vabbè, ora fammi buttare quello che mi serve qua ecco Ah, 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 ah. Sono morto? La sono cavata? Sì, vai, è finito. Quindi dobbiamo usare le bomba. Non sarebbe una bambina! Perchè passo. Ahaha, difficile parce qu'il fallait shove le bomba una mia diretta. Ascettate! Non si quindi inizia prima la pelletta. I soviet di piedi dici. Ai 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 E dai sono... Non ho capito ancora Ah questa è la signora She is the dumb, maybe E dai, piglio piglio Oh, stanno arrivando in forza, prendi, prendi, prendi Piglio 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 Vai 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 Boom, 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 boom Boom, boom Boom, boom E qua mi sono rimasto secco, eh Siamo? Come mi alzo quella qua? Le pietre? Le pietre Bele buonasera caro tu palazzi Sì, mia figlia, siamo tutti noi, che bamboi Stongo qua, stongo Ma tutti in una faccia conosciuta Mi sembra di averti già visto da qualche parte Eh? Sono Redfield Grazie Grazie Redfield Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Uh, Redfield E questa è la famosa casa in cui siamo entrati Oh, si è salvata Meno male She's safe I love you Dicono che è chiusa una porta Se ne avrà un'altra Ha un portone Stanotte se ne è chiusa una È stata una lunga notte Una brutta porta E non solo per me Io e Mia non siamo le sole vittime Ma anche i Baker È colpa di quella cosa Evelyn Che li ha resi così Effettivamente L'ombrella è morta E la cavalleria è venuta a ripulire il tutto Avevo accettato la scomparsa di Mia Ma ora è tornata E vuole ricominciare Lasciandoci tutto alle spalle Forse è ora di aprire questa nuova porta Dove è la chiave? Bello Davvero un bel gioco È finito? Ah Interessante Umbrella Corporation Sono i titoli di coda Spaghetti Di pomo Peppero Un altazzino di caffè Ma rimasta Sato Come Don't tell and roll me Go tell and roll me Go tell and roll me Everybody's Sì 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 Bello, davvero molto bello questo gioco Questo gioco E ringrazio l'amico Fernbus Per avermelo Consigliato Mi raccomando Seguite il canale dell'amico Fernbus08 Che è davvero Un bravissimo streamer If you I will suggest you a channel I will suggest you The channel My friend Fernbus08 And Other Friends Channels That are La Zappa Storta 9 Gine 0 Channels 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 Chi Arch Hoe Channels 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 Subic, io, poi dovrebbero uscire i sottotitoli, eh, perdoni, i doppiatori italiani, no, non ci sono mambe. house of mohi ah gli animatori eccoli qui sono qui vai di lì va bene io come sempre vi ringrazio come sempre vi ringrazio di essere stati qui in live con me ringrazio coloro che hanno guardato questa live e non hanno commentato insomma grazie a coloro che hanno guardato questa live pur non avendo un account un ringraziamento ovviamente va a coloro che si iscrivono al canale lasciano un messaggio passano per un saluto nel canale e supportano il canale con i cheers con i beats e con le sub questo video sarà disponibile su youtube martedì per chi fosse interessato ad acquistare questo ed altri giochi scontati nella descrizione del video troverà alcuni link fra cui il link per acquistare il gioco scontato questo e molti altri giochi e non solo ma anche giochi per pc per console e troverà anche i link per fare una visitina ai miei canali social thank you so much for behind here in live stream thank you i want to say thank you who follow this live streaming and not typing a message and everyone who is watching this live streaming and they don't have a twitch account i want to say thank you as well who follow the channel who leave a comment and particularly a thanks thank you so much to who support this channel using the cheers the beats and the using the the sub thank you so much thank you so much and everyone who is watching the live stream and they don't have a message 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 thank you very much to all those who have followed the live stream and they don't have a account support the channel parmi les cheers beats et le sub merci a tous qui laissent un message si vous êtes intéressés a ce jeu et a autre jeu pour pc console ou autre chose je vous laisse des liens dans la description des vidéos pour acheter les jeux et autre chose après réduit et aussi le lien pour visiter mes canals social media merci beaucoup thank you so much everyone grazie a tutti per essere stati con me ah j'ai j'ai oublié le j'ai oublié qui si j'ai oublié dit je vous allez trouver la vidéo le lendu merci beaucoup thank you so much everyone grazie a tutti come sempre et j'ai cet un bon ciao ciao bye bye salut digitale so quancy as Grazie a tutti.